E' stata ritrovata in mattinata dai militari della Guardia Costiera di Sciacca agli ordini del comandante Giuseppe Giannone, il natante che ha trasportato la dozzina di migranti provenienti dall'Africa sbarcati ieri sera tardi sulla spiaggia di Renella. La barca si trovava a poche miglia a largo della costa e adesso è sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica per gli accertamenti di rito. A far scattare l'allarme ieri sono stati alcuni cittadini di passaggio, automobilisti e nonne che improvvisamente sul loro cammino si sono imbattuti in un gruppo di esseri umani di pelle scura che a passo svelto cercavano probabilmente di disperdersi sul territorio. Immediato però è stato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Sciacca comandati dal capitano Marco Ballan. Il bilancio finale di 11 persone intercettate e affermate, tutti uomini, ai militari hanno dichiarato di essere di nazionalità tunisina. Trasferiti nei locali della compagnia dei carabinieri sono stati rifocillati e idratati. Stamattina sono stati sottoposti a visita medica. Il loro destino adesso, nelle mani della questura di Agrigento, potrebbero essere trasferiti al centro di accoglienza di Porto Empedocle, potrebbero essere anche rimpatriati. Evidentemente si valuteranno tutte le eventuali istanze di esilo. Sono questioni burocratiche che naturalmente non sono secondarie rispetto alla questione principale che è quella umanitaria. Carabinieri e militari della Guardia Costiera non escludono che altre persone possano aver viaggiato sulla medesima imbarcazione riuscendo a sfuggire alle forze dell'ordine. Ricerche proseguite per tutta la notte malgrado la difficoltà delle ore notturne. Per ore oltretutto non c'è stata traccia del natante. Fonti ufficiose riferiscono che le dimensioni inducono a pensare che ad occuparlo non possa essere stata che appena una decina di persone e che quindi potrebbero non esserci altri passeggeri non ancora individuati. Accertamente tuttavia sono tuttora naturalmente in corso per cercare di capirne di più. Uno sbarco, quello di ieri sera a Rinella, che fa il paio con quello dello scorso 12 agosto avvenuto sulla costa di Muciare. Anche in quel caso una piccola imbarcazione lasciata incustodita col motore ancora acceso era stata rinvenuta a pochi metri dalla battigia. Si sarebbe poi scoperto che sul natante viaggiavano circa una ventina di esseri umani che sotto costa hanno raggiunto la riva disperdendosi poi sulla terraferma. Vicenda questa dalla quale è scaturito l'arresto di un uomo probabilmente ritenuto lo scafista, imbarcazione quella che peraltro si trovava fino a ieri ancora della costa di Muciare. Un territorio, quello di Sciacca, che dopo un periodo di calma almeno apparente è tornato ad essere meta privilegiato, ovviamente si fa per dire, di quelli che la vulgata giornalistica riconosce come sbarchi fantasma, ovvero sia i piccoli natanti che nel mezzo del dibattito delle polemiche sulle ONG riescono comunque a raggiungere ugualmente la terraferma, soprattutto nel periodo estivo, lasciando a terra piccoli gruppi di persone, una condizione questa che induce le autorità a battere la costa con mezze e personale disponibili, ossia ben pochi, per cercare di intercettare per tempo eventuali ulteriori tentativi di approdo.